Chi è uscito a Decimo Factor 2021 nel quinto live? Si avvicina sempre di più la finale e ci sono stati altri due eliminati. La puntata di giovedì 25 novembre 2021 è cominciata in modo molto speciale e con un ospite attesissimo, Ed Sheeran ha aperto il quinto live e si è esibito anche a metà puntata. Ha scambiato due chiacchiere con Ludovico Tersini parlando anche in italiano, una cosa che piace molto ai fan italiani di Ed. Nel quinto live, inoltre, il pubblico ha ascoltato i nuovi inediti dei concorrenti di Decimo Factor 2021 nella prima Munch. A dare inizio alla gara, invece, è stato il roster di Mika. Fello ha convinto i giudici con la sua esibizione anche stasera, anzi li ha stupiti. Sul palco sono saliti le Endrigo dopo il cantante di Mika. Il nuovo inedito della band di Emma non è arrivato molto a Mika, un po' di più a Gratone Agnelli. Quest'ultimo ha mosso le prime piccole critiche a Baltimora stasera. Come anche Mika, il nuovo inedito non ha convinto del tutto i due giudici. Il nuovo inedito di erio è stato scritto da Giuliano San Giorgi, ma i giudici hanno apprezzato molto anche l'esibizione. Mika Paris è piaciuta molto, mentre Gianmaria ha lasciato perplessi Mika Emanuelito stasera perché ha perso a tratti il controllo, cosa che invece piace molto ad Agnelli. Stasera anche i Bengala Faire hanno messo d'accordo il tavolo. Prima dell'esito del televoto c'è stata l'esibizione di Casa di Lego e Deb Sheeran. Un sogno che si è avverato per la vincitrice dell'anno scorso, che ha scelto il suo nome d'arte proprio in onore della star britannica, che ha regalato un altro brano al pubblico di Decimo Factor 2020. Dopo questo momento molto bello ed emozionante, Ludovico ha letto il verdetto. I primi eliminati del quinto live sono stati le in brigo, dopo un ballottaggio con Fello. Nella seconda mangi sei concorrenti ancora in gara si sono esibiti con delle covere accompagnati da un'orchestra. Al termine delle esibizioni il verdetto del televoto ha mandato al ballottaggio Baltimora e Nica Paris. Gli eliminati di Decimo Factor 2021 del 25 novembre sono quindi le in brigo e Nica Paris. Grazie a tutti. Grazie a tutti.